dedicato mercedes android 9 uguale all'originale 4 giga di ram rom 64 giga carplay android auto display ps multi touch screen un prodotto eccezionale con processore sonoro andiamo direttamente dimostrazione sezione apple carplay sezione android stazioni in memoria possiamo gestire anche radio dvd via voce bluetooth navigatore ad esempio andiamo in dvd adesso abbiamo attivato il dvd e poi mano mano avanti possiamo adesso aspettiamo un attimo qui stiamo nel menù play selezione scene tutto quanto adesso ritorniamo in radio l'equalizzatore ci cambia il rock pop jazz classica flat allora partiamo dal via voce bluetooth una volta che viene il cliente lo andiamo a configurare comparirà tutta la rubrica la tastiera per fare le chiamate addirittura se attiva android auto potrà gestire tutto in vocale poi abbiamo chrome possiamo gestire vocalmente viale palmiro togliatti 600 abbiamo il dab adesso è entrato in funzione qui abbiamo tutte le stazioni memorizzate e tra un pochino comparirà anche la copertina ecco qui è entrata la copertina possiamo gestire un ipod abbiamo google oltre a chrome lo possiamo gestire sempre vocalmente poi abbiamo gestione streaming musicale tramite il prodotto una volta configurato il cliente può usare tutta la musica del proprio smartphone direttamente sul tablet poi abbiamo gestione audio e video tramite le due usb che abbiamo inserito nel cassetto porto oggetti nel momento in cui vogliamo gestire la musica andiamo qui abbiamo tutte le playlist torniamo e possiamo gestire anche da qua mettere in pausa avanti e indietro oppure clicchiamo entriamo direttamente nell'app semplice da usare se inserite la musica con le copertine la vedrete anche qua la copertina adesso andiamo in video mettiamo un video semplice da usare è partito il video qui adesso noi abbiamo solo un video nel momento in cui avete più video compariranno tutti qua orologio maps posizione real time questo è il laboratore sonoro dsp dove andremo a settare con il cliente il sound in base alle sue esigenze infine trailer 4k la cosa è la cosa che ti ricordi danni dice che abbiamo dovuto rin la cosa che ti ricordi è perché sei un ragazzo molto incontro girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain, I will start. Possiamo usare tutte le due app in contemporanea. La retrocamera è un optional, 190 euro compesa installazione.